È proprio uno spazio sicuro in cui ci si sente liberi di aprirsi, in cui si può uscire dal senso di solitudine, in cui ci si trova magari normalmente. Non so, per me è davvero la cosa più utile in questi giorni, è proprio poter aprirmi con le altre persone e sentire di poterlo fare senza essere giudicata. È stato divertimento, scoperta, liberazione, libertà. Le esperienze che abbiamo fatto sono tutte esperienze fortissime, che hanno lavorato in varie direzioni e sempre a tirar fuori, a sciogliere, verso la trasformazione. Insomma, grazie al Miraghi Experience sono arrivato a livello di tocco di me stesso, di profondità, che non avevo mai raggiunto. Si è creato in questi giorni un legame talmente potente, talmente puro, perché con queste persone che mi sono trovata qui, in questo ritiro, erano tutte di età differenti. Però allo stesso tempo ci siamo ritrovati bambini tutti quanti. Quando sono qua, a parte il fatto che conosco tantissime persone, e la cosa bella è che le relazioni normali che ho in città sono superficiali, sono di circostanza. Magari si esce, si parla sempre delle solite cose, ma non c'è veramente un contatto. Mentre invece la cosa incredibile è che qua, anche dopo pochi giorni, che si sta insieme con qualcuno, cioè si sente il contatto, perché si parla dal cuore, cioè si parla veramente, non si parla per riempire lo spazio. Per me è luce, consapevolezza ed autenticità, perché mi ha permesso di avere un arricchimento che non mi aspettavo. Allora, Meraki Experience è prendersi del tempo per sé, è stato prendere del tempo per me, per riflettere, per pensare, per scoprire anche lati più nascosti che non pensavo di avere. È un miracolo commovente. Intraspezione, azione e libertà assoluta di fare e di essere quello che voglio, quando voglio e come mi sento. Allora, per me il Meraki Experience è stato un parco giochi proprio per la mia anima, per me stessa. E ho vissuto tutto come un dono, mi sono arrivati tantissimi doni. È stato bellissimo e sarà veramente un grandissimo valore aggiunto per la vita quotidiana, perché sono fermamente convinto che quello che abbiamo fatto qui si possa riportare nella vita di tutti i giorni. Veramente una boccata d'aria fresca, ha trasmesso delle sensazioni di condivisione molto forti. Veramente liberatorio. Quindi sono davvero grata di questa esperienza. Secondo me Meraki è un luogo sicuro in cui delle persone hanno creato il migliore dei mondi possibili. Un mondo dove le persone danno valore a quello che è davvero importante, che è l'incontro, la comprensione, l'ascolto, il contatto e la poesia della vita. Io qui mi sono sentita veramente a mio agio, nelle gioie e nei dolori. Mi sono sentita di poter essere me stessa a 360 gradi e come ho detto nel primo cerchio, io quando arrivo qui e vedo questo posto, mi sembra di vedere veramente tutto avvolto nella luce. Appunto ci ha portato a vedere il numero della persona prima delle sovrastrutture. e questo ci ha portato da stare da qua a qua, proprio in uno schiacco di vita. E questa è la cosa che mi è piaciuta di più.